Ottimi risultati dal convegno sulla gestione integrata delle emergenze e urgenze dell'apparato digerente tenutosi nel capologo organizzato dalla USL Dolomiti con una larga partecipazione di medici e specialisti da tutta Italia. L'importanza di questo evento congressuale è quello di aver messo insieme molti specialisti nazionali di branche specialistiche diverse per cercare di trovare dei percorsi comuni per la gestione dell'urgenza delle malattie dell'apparato digerente. Perché l'apparato digerente? Perché è uno dei principali motivi di accesso al pronto soccorso. Pare che sia il secondo per frequenza. La sfida di questo convegno è stata quella di mettere insieme chirurgo, gastroenterologo, radiologo e medico di pronto soccorso affinché si potessero parlare e condividere le proprie linee guida che molto spesso purtroppo sono linee guida di settore. Il congresso ha messo in luce in modo molto evidente come mettendo insieme le competenze e le conoscenze delle varie specialità non si può che migliorare l'esito del trattamento di questi pazienti in cui il tempo la fa da padrone. Archiviato questo incontro specialistico, l'impegno della unità operativa di gastroenterologia del San Martino di Belluno nella divulgazione al grande pubblico di pratiche alimentari corrette offrirà prossimamente un appuntamento di grande interesse. Il 22 marzo vi anticipo che sempre a Giovanni XXIII ci sarà un incontro per il pubblico che farà seguito a quello dell'anno scorso che ha avuto un ottimo successo in cui il nutrizionista noto in tutto il mondo Fontana ha parlato al nostro popolo bellunese di come una corretta alimentazione sia lo strumento nelle nostre mani più efficace per prevenire molte malattie e soprattutto allungarci la vita. Ecco ci sarà uno chef, uno chef stellato che ha collaborato con il nutrizionista Fontana il quale ci tradurrà in termini pratici come mangiare bene significhi non soltanto mangiare sano ma anche mangiare con un buon risultato per il nostro palato.